Questa penso sia stata la migliore in assoluto per quello che abbiamo fatto vedere, per la continuità di prestazione e per il fatto che dal primo all'ultimo minuto siamo riusciti ad avere noi pallino del gioco. Però ci vuole dell'altro nel senso che sappiamo benissimo che in questa categoria concedi poco ma subisci i gol e oggi è andata così. Il rammarico è per tutte le situazioni da gol che abbiamo creato, per i due pali che abbiamo colpito, per tutto quello che potevamo concretizzare non l'abbiamo fatto. Però la prestazione c'è stata, questa è la decima partita e alla decima partita abbiamo fatto vedere che la crescita è costante. Mi dispiace non aver portato a casa punti però la prestazione è stata di alto livello. È normale che in questo momento incisività, concretezza, viene da dire quello. Il fattore positivo è che arrivano tanti rifornimenti davanti, che ci presentiamo spesso in zona gol ed è normale che bisogna essere ad avere un cinismo diverso da quello che stiamo facendo vedere in questo momento. Vedi quello che forse qualche avversario riesce a fare contro di noi. Quindi migliorare su quel fondamentale lì, continuare a mostrare questo tipo di atteggiamento, queste prestazioni e sono convinto che con un po' più di precisione possiamo veramente riuscire a concretizzare tutto quello che creiamo perché oggi ad esempio è davvero un peccato. Le partite non le prepariamo tutte allo stesso modo, tutte sapendo che se lo spirito non è quello mostrato oggi per noi diventano partite complicate. Andare in campo e costruire tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi, creare tanto, concedere meno di quello che abbiamo concesso perché anche se abbiamo concesso pochissimo oggi abbiamo preso gol, quindi lavorare per essere ancora più precisi e perfetti. Quindi l'obiettivo è questo, ci rimbocchiamo le maniche e sappiamo che la prestazione c'è stata ma dobbiamo abbinare risultato, dobbiamo condire questo tipo di prestazioni con punti da portare a casa.